Salve, sono Gianni Mastropaolo, sono laureato in ingegneria elettrotecnica, mi occupo di coding da molto tempo anche se non sono un informatico, anzi credo che sia proprio interessante questo taglio, utilizzare le caratteristiche dell'informatica, soprattutto la possibilità di organizzare il pensiero e ottenere risultati in modo coerente e in modo logico e utilizzare questa modalità per diverse discipline. Il lavoro che tendenzialmente faccio io è quello di fare funzionare apparecchiature elettriche oppure di fare simulazioni utilizzando alcuni linguaggi di programmazione che sono molto comodi, molto facili da utilizzare, come per esempio Scratch. Attualmente sto tenendo dei corsi di formazione per dei docenti di alcuni istituti di secondaria superiore, anche di scuola secondaria di primo grado, perché si tratta di riuscire a fare in modo che il coding rappresenti una modalità tipica dell'insegnamento nelle varie discipline, soprattutto scientifiche. Io lavoro molto nell'ambito scientifico, c'è una mia collega che lavora analogamente molto nell'ambito del digital storytelling. Sono tutte modalità che dovrebbero poter servire per aiutare i ragazzi a organizzare meglio il pensiero e a produrre attività che poi alla fine sono anche concrete. Io ritengo che il coding, cioè lavorare al computer e mettere in ordine il proprio pensiero per ottenere il risultato sia un modo per aiutare i ragazzi ad apprendere facendo laboratorio. A modo suo anche l'attività al computer è un modo di lavorare facendo delle cose. Sono più astratte, meno concrete del laboratorio fatto con le mani, ma comunque rappresentano un modo che consiste nel fare, costruire, io lo chiamo oggetto, che in definitiva può essere mostrato ad altri e quindi può rappresentare un modo potente di motivazione a vantaggio degli allievi, a vantaggio anche degli insegnanti che in quel modo lì troverebbe più facile fare passare concetti, metodologie che altrimenti sarebbero solo rappresentati in modo astratto. Grazie a tutti.